salve a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale allora non fate caso al bordello che c'è qui sulla mia scrivania ma sto facendo delle creazioni per cui sono leggermente incasinata infatti potete vedere filo da tessitura perline campioncini ok volevo farvi partecipi del mio acquisto non del mio arrivo allora ovviamente sempre obi perline e vi faccio vedere cosa mi è arrivato sempre il solito coupon poi questa è la fattura e questo è il mallopotto a noi apriamo ok così magari riesco a metterlo come base e vi faccio ecco bene così tu dici potevi prepararti prima no io volevo farlo con voi allora vediamo un po che cosa ordinato perché c'è stata un'incomprensione ed è passato un po di tempo dall'ordine allora come potete vedere sempre tutto ben impacchettato e tutto ben messo in modo che non si rompa niente addirittura due pacchetti allora iniziamo con questo direi mi sono ordinato non mi sono arrivati ho ordinato questi anellini in ottone questo è il vediamo se ce la faccio fuocati ti fuo chi non ti fuo chi vediamo eccolo qua perfetto questo è il codice ok anellini in ottone poi ho preso degli anellini in argentati anche questi aspettate che ve li metto a fuoco ecco qua poi vediamo che cosa sono questi delle baguette io le mangio le baguette sono delle baguette per una creazione che devo fare sbaroschi ovviamente non potrebbe essere altrimenti poi ho preso anche queste baguette e se non sbaglio esatto allora sono crystal poi abbiamo la emerald infatti si vede benissimo e queste vai giù sono le sbaroschi burgundi no cos'è a siam guardate che rosso meraviglioso queste in pratica le dovrò usare per una maglia che ho fatto aspettate che le tiro giù perché se non si vedono guardate che meraviglia questo ed è crystal golden shadow guardate che spettacolo poi ci sono queste rose non lo vedete rose e teoricamente hanno ce ne sono altre non potevano mancare le acqua marine ok queste sono le acqua marine poi e le mettiamo qua poi vediamo no ce ne sono ancora il santa polpetta ma quante ne ho prese queste sono le crystal golden shadow mi sa che l'ho presa doppia sì guardate che colori pazzeschi poi andiamo con delle perle cerate per dei braccialetti che mi ha chiesto mia figlia sono comunque sempre in vetro ci sono queste da dieci millimetri queste da 8 mm siccome lei i braccialetti usa on the road allora ho preso queste in vetro blu montana e ho preso queste due misure perché devo fare un lavoretto particolare con queste perle per i suoi braccialetti abbiamo una navette giusto si chiama no cabochon ovale lungo aspettate che ve lo faccio vedere questo è un cristal e si vede ok e li mettiamo qua poi mi sono presa delle pinche allora questo è il gris crystal gold crystal bronze pal gold e questo è il numero il codice poi abbiamo queste pink gold luster che ho finito e siccome devo fare degli altri lavori degli altri ordini non ne avevo più e li ho dovute ordinare poi abbiamo dei mezzi cristalli mezzi cristalli opac luster beige questo è il codice e sono da 8 mm 1 e 2 no un e beige e l'altra champagne la differenza è veramente minima però vedete anche dal video si vede che allora mezzi cristalli opac luster champagne e sono uguali e poi dovrebbero esserci gli altri nell'altro pacchetto questi invece sono mezzi cristalli cristalli a b da 8 mm questo è il codice ok e li mettiamo qua apriamo il secondo pacchetto allora queste queste bustine poi sono bellissime perché poi le puoi riutilizzare allora questi sono degli anellini aspettate che ve li faccio vedere per fare i portachiavi tipo che entri da una parte ed esci dall'altra vediamo se riesco allora facciamo così dai aspettate come siamo non sono troppo vicino non ce l'ha ecco vedete tipo portachiavi e siccome voglio fare dei pensierini mi sembravano l'ideale ok anellini portachiavi e li mettiamo qua insieme agli altri anellini poi abbiamo anellino dorato aperto aspettate che ve lo anellino dorato aperto da 9 mm di diametro 0 2 poi anellino aperto dorato 8 mm e diametro un centimetro e 2 non è 0 2 e 2 proprio infatti vedete la differenza questi sono i codici infatti dicevo che c'erano ancora mezzi cristalli opac luster beige quelli da 8 mm e poi abbiamo due pacchettini di mezzi cristalli questi sono le jet adesso vi faccio vedere in montana forse non riuscite a vederlo così aspettate che proviamo e ciccetti vediamo se messi alla luce no vediamo se ecco forse aspettate devo avere qualcosa di bianco sotto per poter dimostrare quanto sono belli guardate guardate riflesso anche io li adoro aspettate che troviamo proviamo con questa cosa l'ho comprata ma mi dimentico sempre di utilizzarla vedete adesso non lo vedete più pazienza ok questo lo spengo poi rimetto a posto in montana praticamente sono blu no non ce la faccio proprio dovrei avvicinare questa luce ma ma neanche con la luce ce la faccio a farvi vedere quanto è bello niente pazienza non li vedrete poi nelle creazioni ok non fate caso alle mie mani sono gonfissime purtroppo ci sono cose che non perdonano ma noi continuiamo ad andare avanti imperterrite ok poi mi sono presa queste pinch rialzo la luce queste pinch che sono veramente bellissime io le adoro piacciono tantissimo ok il codice eccolo qua poi altre pinch pink gold luster con relativo codice sono molto molto fini molto graziosi e io di solito le lavoro con queste perline sono veramente pazzesche ok poi infatti le ho ricomprate eccole qua perché forse devo fare qualcosa no ma che queste sono spettacolari perché hanno una tonalità di rosa veramente carinissimo sono le permanent finish galvani set galvani bluish dolce fard poi queste perle cerate in vetro cerato fire red sono rossissime poi vediamo un po cos'altro c'è c'è un'altra c'è un altro vale guardate che spettacolo che è questo vale io lo adoro poi vediamo un po cosa c'è qua ci sono delle basi per anelli questo è il codice ok e poi ovviamente l'omaggio vediamo cosa mi hanno mandato stavolta questa volta mi ha dato a casa bianca dondo liscia da 10 mm e perline preziosa rocai 11 0 allora l'altra volta mi mandarono vi faccio vedere perline preziosa rocai 11 0 e agata bianca tondo liscio da 10 mm a cavall donato non si guarda in bocca ma voglio dire un po di fantasia vi prego se me l'avete già mandato l'altra volta ma voglio dire ripeto a cavall donato non si guarda in bocca vi ringrazio ok vi ho fatto vedere tutto per questo video acquisti e tutto se non sbaglio e niente ci vediamo al prossimo video tutorial che già in preparazione per farvi vedere come si fa aspettate che se lo trovo vi faccio vedere in anteprima vi spoilerò il tutorial vi faccio vedere come si fa questo bracciale aspettate che vediamo se riesco a metterlo a fuoco eccolo qua una lucentezza pazzesca che megan mark levati e niente ragazze per questo video è tutto io vi mando un bacione grosso grosso ringrazio tantissimo tutti i nuovi iscritti lasciatemi un messaggio non mandatemi solo messaggi privati fateglielo vedere chi siamo un bacione ciao